Il fiume Testene è sporco, il fiume Testene proprio alla foce presenta delle grandi irregolarità come all'interno, questo evidentemente rappresenta anche un motivo di grande doglianza per il futuro perché bisogna pulirlo altrimenti Agropoli si allagherà nuovamente. Ha piovuto pochissimo oggi, 31 maggio, e guardate il fiume in che condizioni è. La stazione non è drammatica ma è ai limiti. Proprio in questo ballamento si vede come è sporco, il fiume è totalmente sporco e va ripulito. Ci troviamo proprio alla foce del fiume Testene, oggi 31 maggio. La situazione certamente non è delle migliori. Non succederà niente perché non sono previsti getti di acqua, però bisogna pulire il fiume, bisogna pulire i fiumi, altrimenti quello che è successo qui a novembre e in altre parti d'Italia rischia di degenerare. Grazie.